Con 140 voti favorevoli, anche il Senato dà via libera alla legge di bilancio, ultimo atto della legislatura. Con risorse limitate e una spinta alla crescita, commenta il Premier Gentiloni. Niente numero legale, stop invece allo Ius Soli. Nella notte è firmato poi l'accordo per il rinnovo del contratto per 247 mila dipendenti pubblici. Gli statali avranno un aumento medio di circa 85 euro l'ordi al mese. Soddisfatti i sindacati che parlano di risultato storico atteso da quasi dieci anni. Michele Emiliano risponde all'appello del Premier sul caso Ilva. Gentiloni ieri aveva chiesto di ritirare il ricorso al TAR per non mettere a rischio l'Ilva e la bonifica dell'area. Certamente lo faremo, ma non appena Gentiloni avrà modificato il decreto. La risposta del governatore pugliese che chiarisce, difficile che qualcuno mi costringa, bisogna lavorare e non ricattare. Non convocherà elezioni anticipate in Spagna il Premier Rajoy, uscito indebolito dal voto in Catalogna, che ha visto la vittoria sostanziale dei partiti indipendentisti. Rajoy ha declinato l'invito a un incontro lanciato gli ieri dal presidente catalano Puigdemont, ma si dice pronto a aprire un canale di dialogo con il nuovo governo che si formerà a Barcellona. 162 migranti sono arrivati a pratica di mare alle porte di Roma con due aeree di Stato e non rischiando la vita su un barcone. E questo grazie al primo volo del corridoio umanitario legalizzato tra Italia e Libia, frutto del lavoro anche di ONU e CEI. I migranti sono stati individuati nei centri di detenzione del paese africano, 50 sono bambini. Siamo riusciti a sottrarli ai trafficanti di esseri umani, ha detto il ministro dell'interno Minniti. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Occhi puntati questa sera sullo Stadium di Torino dove andrà in scena lo scontro di vertice tra i bianconeri e la Roma, una sfida in chiave scudetto. Del sabato pre-natalizio della Serie A può approfittare il Napoli, capolista che ospita la Sampdoria e l'Inter impegnata a Sassuolo. Negli anticipi di ieri la vittoria della Fiorentina a Cagliari e del Bologna a Verona contro l'Ellas. Dunque una buona giornata e un buon sabato dal telegiornale della Sette. In pratica si chiude qui con l'ok alla manovra arrivata al Senato, tutto come da tempi, da timing, almeno nelle ultime ore, perché i tempi erano stretti. Sappiamo che il calendario Aramano nel giro di una settimana arriverà allo scioglimento delle camere. Dunque quest'ultima manovra, la legge di bilancio, abbiamo raccontato più volte in questa settimana come è cambiata, come è modificata, con le risorse che sono risorse limitate. Lo ha sottolineato in un passaggio questa mattina il Premier Gentiloni, ha detto comunque una manovra per la crescita. Dopo l'analisi e l'ok della manovra si è tentato qualcosa su Ius Solis al Senato, ma è mancato il numero legale. Dunque il tentativo in extremis è fallito e si rinvia tutto al 9 gennaio, ma cominciamo dunque dai termini della manovra e da quest'ultimo atto della legislatura. Con il via libera definitivo di Palazzo Madama poco fa la legge di stabilità 2018, senza modifiche rispetto al testo licenziato ieri dalla Camera, si conclude di fatto la diciassettesima legislatura. 140 i voti favorevoli, 94 i contrari. Il Senato ha varato la legge di bilancio con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L'Italia merita fiducia, scrive il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su Twitter. La manovra appena licenziata è composta tra l'altro da incentivi per assumere i giovani, sostegno alle imprese che innovano, l'anticipo della pensione per alcune categorie, risorse per i nuovi contratti e niente nuove tasse, come è ripetuto in questi giorni Gentiloni. Una manovra migliorata nel corso del passaggio parlamentare, secondo il Ministro dell'Economia Padoan, e vale 20,4 miliardi di euro. Una bella parte, circa tre quarti dell'intera manovra, li vale il congelamento degli aumenti dell'IVA che si riproporranno nel 2019. Scattano nuove norme anti-evasione, come l'autofatturazione dell'IVA estesa ai fornitori delle società partecipate dallo Stato, modificato anche il calendario delle scadenze fiscali. La legge di bilancio introduce poi la tanto discussa web tax su alcune transazioni digitali, ma solo a partire dal 2019, con una liquota al 3%, quindi più bassa rispetto a quanto previsto all'inizio e con minori entrate per lo Stato. E' ancora riaperta la rottamazione delle cartelle di Equitalia, confermati i bonus fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e le detrazioni per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Raddoppia a 100 milioni il fondo per gli indennizi ai risparmiatori truffati dalle banche. E poi misure sulle pensioni. Diventano 15 le categorie di lavori cosiddetti gravosi, ai quali non verrà applicato l'aumento automatico previsto dalla legge dell'età pensionabile. E sono stati necessari tagli al bonus bebè, che resta solo per il 2018. Ecco spicco invece il pacchetto imprese con sconti per gli investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e formazione. Dal 2019 scatterà poi la decontribuzione al 50% per le assunzioni a tempo indeterminato, che vale per tre anni e comunque solo per gli under 34, misura che dovrebbe ridare ossigeno al lavoro giovanile. E poi è arrivato anche nella notte l'annuncio importante, importante dal punto di vista di quei 250 mila lavoratori che attendevano in alcuni casi da oltre 10 anni. Lavoratori statali e dunque per il prossimo triennio sono arrivati gli aumenti. Arriva via Twitter alle 3.56 di questa mattina l'annuncio di Marianna Madia. Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale è stato appena firmato con le organizzazioni sindacali il primo nuovo contratto dei dipendenti dell'EPA, scrive la ministra della pubblica amministrazione, che più tardi approfondisce, si ristabilisce equilibrio tra diritti e doveri, ci sono più tutele e al contempo il contrasto severo a comportamenti come l'assenteismo. L'attesa insomma è finita. Dopo mesi di discussioni e una maratona negoziale, il rinnovo del contratto è cosa fatta? Per i dipendenti dei ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici. In tutto circa 247 mila persone che lavorano alle cosiddette funzioni centrali. Quest'accordo inoltre farà da apripista per le altre categorie di dipendenti pubblici, sanità, istruzione e enti locali. L'aumento medio mensile è di circa 85 euro lordi a regime sullo stipendio base e il rinnovo copre il triennio 2016-2018. La tranche di aumenti per il 2018 scatterà da marzo, mentre gli arretrati per il biennio precedente, circa 545 euro lordi a dipendente, dovrebbero essere pagati a febbraio. In particolare l'intesa firmata dai sindacati e l'Aran, l'agenzia che rappresenta il governo nelle trattative, prevede aumenti retributivi sullo stipendio base con una forbice che va dai 63 ai 117 euro lordi mensili. Occorre aggiungere poi l'assegno, valido per 10 mensilità, per i livelli più bassi che oscilla tra i 21 e i 25 euro e un plus per le amministrazioni più ricche da caricare sul salario accessorio. Con il nuovo contratto viene mantenuta la tutela dell'articolo 18 e ridotta la precarietà. Introdotte anche maggiori tutele per le malattie gravi, per le donne vittime di violenza, per il diritto allo studio, per la difesa dallo stress. Inoltre niente fast food. La pausa pranzo degli statali resta di 30 minuti. Archiviata la legge Brunetta, esulta la CGL. Più diritti, più contrattazione, più salario. La video twitta infatti soddisfatta Susanna Camusso, per una volta d'accordo con Anna Maria Furlan della CISL, secondo la quale questa firma è un segnale positivo per tutto il paese. La willa infine ricorda che è stata evitata la beffa, e cioè che i benefici degli aumenti fossero vanificati dalla perdita degli 80 euro del bonus Renzi. Allora, a proposito dei dossier caldi ancora appoggiati sul tavolo di Paolo Gentigoni, c'era anche quello relativo alle nomine, vertici da ridisegnare, in alcuni casi dopo polemiche, in altri dopo addirittura inchieste. Dunque scelte delicate che non potevano prescindere in certe situazioni anche da accordi trasversali. Vediamo. Ad una manciata di giorni dallo scioglimento delle camere, nel segno di una fine ordinata della legislatura, Palazzo Chigi ha dato il via libera ieri a ricambio dei vertici di Consob, Corte dei Conti, Esercito e Carabinieri. Un pacchetto di nomine delicatissime su cui il governo, d'accordo con il presidente Mattarella, che ha suggerito nomi il più possibile condivisi, ha voluto procedere velocemente per blindare le istituzioni in vista di un probabile periodo di incertezza politica pre- e post-elettorale. E così a capo della Consob, al posto di Giuseppe Vegas, economista che fu indicato dall'allora governo Berlusconi, di cui fu anche vice-ministro dell'economia, arriva Mario Nava, figura molto gradita in Europa, che ha alle spalle una carriera ventennale in campo economico ai vertici dell'Unione e già collaboratore di Prodi e Monti. Un profilo più tecnico che politico, dunque sul cui nome è stato trovato un accordo tra maggioranza e opposizione, anche perché è l'unico che dovrà passare al vaglio del gradimento parlamentare, sebbene non vincolante. Con la sua nomina, il Premier ha voluto chiudere una stagione particolarmente difficile per la Commissione di Vigilanza sulla Borsa, al centro delle polemiche per i presunti mancati controlli sulle banche. A vicendamento anche alla guida dell'arma dei carabinieri, il nuovo comandante è il generale Giovanni Nistri. A lui il compito di guidare la benemerita dopo un periodo di grandi difficoltà con il comandante uscente, Tullio del Sette, vicino a Matteo Renzi, indagato nell'ambito dell'inchiesta Consipe per rivelazione di segreto e favoreggiamento. Anche su suo nome è stata raggiunta un'intesa bipartisan. A prendere il posto del generale Dalino Enrico alla guida dell'esercito sarà invece il generale Salvatore Farina, alto profilo internazionale già ai vertici del comando Nato delle forze terrestre alleate del Sud Europa. A capo della Corte dei Conti è stato invece nominato Angelo Buscema, già presidente delle sezioni riunite della Corte. E dunque si potrebbe dire adesso liberi tutti naturalmente, anche se già questa settimana è andata in questa direzione, abbiamo imparato ad osservare i nuovi simboli, ma anche i big pronti a schierarsi, e dunque ognuno ha individuato la propria area in cui fare campagna elettorale. Non tutto era scontato, ma insomma tutti i big saranno in prima linea dopo lo scioglimento delle Camere, la campagna elettorale mai così accesa, con ancora alleanze da limare, soprattutto nodi da sciogliere, in particolare nel centro-destra. Un presidente del Consiglio, Gentiloni, che ha fatto del basso profilo la sua forza, a differenza del segretario di quel PD cui pure appartiene. Un leader di Forza Italia come Berlusconi, i cui sogni di riconquista sono disturbati dall'alleato Salvini, un movimento 5 Stelle contro il quale sembrano tutti uniti, compresi quelli di liberi e uguali, per bocca di una Boldrini, che con loro, da presidente della Camera, non ha mai avuto vita facile. Che la decisione sullo scioglimento delle Camere arrivi immediatamente prima o subito dopo la conferenza stampa di fine anno di Gentiloni, prevista il 28 dicembre, poco cambia. Il quadro della prossima corse elettorale è già configurato. L'unico cronoprogramma che conti, tutt'altro che ordinato e lineare, è quello di qui al 4 marzo, quando quasi certamente si voterà, con i vari partiti presi a misurare tempi e nomi, ognuno con le proprie pene. A cominciare dal PD, indaffarato a superare le ultime ferite inferte da quella commissione d'inchiesta sulle banche, il cui esito non si può proprio dire, vada nella direzione auspicata da Renzi. Al di là di quello che farà Laboschi, un eventuale passo indietro potrà essere solo una scelta sua, detto chiaramente il segretario PD, e indipendentemente dai foschi sondaggi, un calo fisiologico. Si commenta al Nazareno, la parola d'ordine è meno Renzi per tutti, ovvero, per dirla con Gentiloni, una leadership plurale, con caratteristiche diverse. Parola d'ordine che, stando a qualche virgolettato, Renzi interpreterebbe a modo suo, Gentiloni e ministri dovranno stare al mio fianco. Al fianco di Berlusconi dovrebbe essere invece Salvini, almeno nelle intenzioni. I rapporti sono buoni, ho sempre parlato molto volentieri, con Salvini, al di là dello stile diverso che ha di proporsi, è un interlocutore serio e ragionevole. Dichiara anche stamattina il leader di Forza Italia, ben poco disposto a qualsiasi patto preventivo sulle liste da formare nel centro-destra e, men che meno, sul sostegno offerto a centro-destra dalle varie quarte o quinte gambe. Forse anche per questo Berlusconi sfogge ottimismo, superiore perfino a Brunetta, che per Forza Italia pronostica il 20%. Puntiamo al 30%, dice Berlusconi, ci arriveremo puntando sui moderati, disgustati e delusi, e che non vanno più a votare, sparando sull'unico nemico che mostra di temere quei 5 stelle che invece sparano su tutti per colpa dei vitalizi. Dal PD e dai vecchi partiti, con il definitivo affossamento del taglio dei vitalizi è andato in scena ieri nell'ufficio di Presidenza del Senato e è arrivato, dicono loro, l'ennesimo schiaffo ai cittadini. Non hanno voluto rinunciare al privilegio e hanno finito la legislatura così come l'hanno iniziata. E poi ci sono le nuove, vecchie vertenze industriali, quelle che pesteranno di mano in mano al nuovo governo. Su tutte l'IVA era la settimana iniziata, lo ricorderete, con i buoni propositi da parte dei sindacati, dello stesso governo di Calenda che ha detto abbiamo studiato, ci sediamo a questo tavolo con le migliori intenzioni. Ma di mezzo c'è quel ricorso, quel ricorso al TAR voluto dal governatore Emiliano che per ora fa la differenza. Le ultime mosse sono proprio del governatore questa mattina che vanno in qualche modo incontro all'appello di ieri del premier Gentigoni, ma poi nella sostanza nulla cambia. Ascoltiamo. Messo ormai all'angolo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, rilancia, ma la sua proposta somiglia poco ad un'offerta di pace. Dopo gli appelli di tutti i sindacati, del ministro Calenda, del segretario del suo stesso partito Renzi, ieri era stato anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a chiedergli di ritirare il ricorso al TAR contro il decreto sul piano industriale ed ambientale previsto per l'acquisizione da parte di Arcelor Mittal. Ricorso che, secondo il ministro per lo sviluppo economico, potrebbe far saltare l'intera operazione e addirittura portare il prossimo 9 gennaio alla chiusura dell'impianto. Questa mattina il presidente della regione dice sono pronto a ritirare il ricorso, ma il premier deve modificare il decreto, così come chiesto da regione comune. E aggiunge, se Gentiloni firma un'altra edizione del decreto, il vecchio decade e decade l'impugnazione. Richiesta non da poco, visti i tempi a disposizione, con un governo che ormai sta ai suoi ultimi atti. Emiliano prova a giocarsi anche un'altra carta e si dice pronto ad incontrare Arcelor Mittal. Un incontro tra noi insieme anche al comune di Taranto sostiene può garantire la produzione e la salute dei cittadini meglio di tutte le chiacchiere che sono state fatte fino ad oggi. Poi, l'ultimo affondo. La regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci e mi sembra difficile che qualcuno mi costringa a fare alcunché. Una frase che sembra rimandare al mittente l'appello del Presidente del Consiglio Gentiloni a cui ora ripassa la palla. La soluzione per l'Ilva ora non sembra affatto dietro l'angolo. Adesso proviamo a raccontare altre prove di dialogo quelle della Spagna in particolare nei confronti della Catalogna. Alle spalle ci siamo messi un voto dall'esito complicato con gli unionisti primo partito gli indipendentisti che pure possono formare un governo e soprattutto con la straordinaria partecipazione della popolazione. Ci sono leader eletti che sono all'estero a cominciare da Puigdemont che pure guarda la comunità internazionale alla possibilità di una mediazione e proverà a formare un governo ma insomma ci sono tante questioni ancora da pesare. Proviamo a farlo col nostro inviato. Il Natale arriva anche in Catalogna e sembra sospendere per il momento i commenti e le polemiche del voto più importante della sua storia. Il regalo più grande sotto l'albero lo ha trovato il Presidente defenestrato dall'intervento spagnolo Carles Puigdemont il suo partito dato in caduta nei sondaggi è uscito invece di nuovo alla guida di un nuovo movimento indipendentista che ha la maggioranza in Parlamento e dunque è come se gli elettori catalani avessero mandato un messaggio forte a Mariano Rajoy Puigdemont è e resta il nostro Presidente. Da Bruxelles sostenuto da questa nuova investitura il leader separatista invita il Premier spagnolo ad un faccia a faccia per trovare soluzioni politiche e abbandonare la via della repressione una mano tesa che per ora Rajoy rispedisce al mittente parlerò con il Presidente quando verrà eletto spiega in conferenza stampa il sottinteso è chiaro Puigdemont potrebbe benissimo nonostante abbia i numeri non rientrare mai più nel palazzo della Generalità visto che rischia l'arresto non appena metterà piede in Spagna i guai giudiziari suoi del suo vice Junqueras di un numero a questo punto imprecisato di deputati eletti a piede libero o ancora in prigione potrebbero lasciare gli scanni degli indipendentisti vuoti l'inchiesta del Tribunale Supremo procede infatti in memore del voto di due giorni fa tanto che Pablo Iarena ha comunicato di voler accusare di ribellione sedizione altri 40 esponenti dell'indipendentismo inclusa la vice di Junqueras Marta Rovira alla finestra c'è il volto nuovo del movimento unionista e costituzionalista in Catalogna Ines Arimada capace di una vittoria storica portare per la prima volta un partito fedele a Madrid a vincere le elezioni ma che intorno a sé non trova altri partiti sufficientemente forti da sostenerla in una coalizione Anche la leader di Ciudadanos ha ricevuto un regalo ma forse il peggiore di tutti quello che si rompe dopo cinque minuti perché come le ha ricordato Raul Garcia Albiol tracollato con il suo partito popolare il suo trionfo non le impedirà di andarsi a sedere comunque all'opposizione ed anche se il Tribunale Supremo le consegnasse un movimento indipendentista decimato non avrebbe comunque i numeri per formare un governo alternativo la conseguenza sarebbe sprofondare la Catalogna in un periodo di grande incertezza con la crisi economica che esiste e spedirla direttamente verso nuove sempre più incerte elezioni Adesso veniamo alle notizie quelle che già filtrano su un attentato sventato negli Stati Uniti in particolare a San Francisco è stato arrestato un ex marine di 29 anni che stava progettando un attentato proprio nella zona del porto di San Francisco è stato arrestato a Modesto in California è stato definito affiliato dell'Isis dalle forze dell'ordine l'attentato sarebbe stato pronto per il giorno di Natale utilizzando esplosivi e un camion della società di trasporti per cui l'uomo lavorava arresto avvenuto grazie all'utilizzo di agenti sotto copertura l'FBI ha trovato nella casa dell'uomo il suo testamento i suoi ultimi desideri diverse armi e munizioni allora adesso andiamo e rimaniamo negli Stati Uniti fronte internazionali di Donald Trump naturalmente l'abbiamo detto la lotta al terrorismo ma poi anche le crisi internazionali l'ultimo fronte aperto il nuovo fronte aperto riguarda la possibilità la decisione di vendere armi all'Ucraina quanto di più sbagliato almeno così sosteneva l'amministrazione precedente quella di Obama sicuramente una decisione non gradita anche a Vladimir Putin da Mosca filtra irritazione e poche parole si rischia in questo modo un nuovo bagno di sangue l'amministrazione Trump ha approvato un piano per fornire sofisticate armi all'Ucraina tra cui i missili anticaro Javelin di fabbricazione statunitense dopo le anticipazioni di stampa la notizia è stata confermata ieri sera da funzionari del Dipartimento di Stato americano aiuteremo l'Ucraina a difendere la propria sovranità dalle minacce di Mosca la versione ufficiale si tratta di una mossa che aumenta il coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto militare in corso nel paese dal 2014 dopo l'annessione della Crimea alla Russia con Kiev che cerca da tempo di potenziare le sue difese contro i separatisti filorussi dotati di carri armati in grado di attraversare la parte orientale del paese droni ed armi elettroniche si stima che i separatisti filorussi abbiano ucciso più di 10.000 persone negli ultimi tre anni iniziata con una controversia su un accordo commerciale la guerra del Donbass è deflagrata in uno scontro sanguinoso che si regge su una fragilissima tregua con continue provocazioni da entrambe le parti gli Stati Uniti dunque si dicono pronti a supportare Kiev nella costruzione di un sistema di difesa efficace nel lungo periodo per salvaguardare la sovranità e l'integrità nazionale del paese dalle minacce di Mosca esperti di strategia geopolitico-militari sostengono però che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe utilizzare la decisione di Washington come pretesto per intensificare l'azione in Ucraina e soprattutto che aiutare Kiev potrebbe logorare ulteriormente le relazioni degli Stati Uniti con la Russia la reazione di Mosca non si è fatta attendere la nuova strategia per la sicurezza nazionale americana ha un carattere offensivo per non dire aggressivo ha dichiarato stamani Putin non si tratta solo di parole o di un pezzo di carta ma è qualcosa supportato da azioni concrete e garantite finanziariamente il supporto militare americano all'Ucraina ha rincarato il vice ministro degli esteri potrebbe portare ad un nuovo bagno di sangue per Putin inoltre nel 2018 il Pentagono ha stanziato fondi per creare un sistema missilistico mobile terrestre con una gittata di 5500 chilometri distruggendo così di fatto il trattato sulle forze nucleari a medio raggio parole che potrebbero turbare la serenità di Donald Trump ora in vacanza nel suo resort in Florida offuscando il successo della riforma fiscale appena approvata adesso con le notizie nel sud delle Filippine dove è in corso una tempesta tropicale il bilancio tutto da aggiornare è già salito a oltre 130 vittime ci sono anche 15.000 persone che hanno già dovuto lasciare le loro case ci sono decine e decine di dispersi la tempesta tropicale Tembin ha colpito il sud del paese con 20 fino a 80 chilometri orari frane e alluvioni città maggiormente colpite sono Tubod e Piagabo dove le case sono state travolte da massi dove si scava per cercare di recuperare ancora le persone sotto il fango allora adesso andiamo al campionato di calcio è naturalmente una giornata forse più importante delle altre che vive sulla sfida dello stadio a Torino tra la Juventus e la Roma il miglior attacco contro la difesa più solida per ragioni diverse staranno in tribuna a guardare sia Francesco Totti che Buffon Roma che allo stadio non ha mai conquistato neanche un punto potrebbero approfittare di questo scontro diretto le altre pretendenti allo Scudetto non sarà decisiva ma di certo Juventus-Roma è una sfida il cui esito potrà dire molto in chiave Scudetto di fronte stasera allo stadio ci saranno il miglior attacco del campionato quello bianco-nero e la miglior difesa quella giallorossa un motivo in più per rendere elettrizzante questa sfida Massimiliano-Allegri sembra intenzionato a riproporre la coppia d'attacco di Bala e Guain tornata alla miglior forma la Coppa Italia ci ha restituito due squadre con umori differenti anche se il tecnico dei campioni d'Italia teme proprio la voglia di reazione romanista dopo l'eliminazione per mano del Torino è una squadra che per forza deve essere tra le favorite dello Scudetto e secondo me è più favorita delle altre in casa Roma Eusebio Di Francesco dopo il turnover totale di Coppa Italia ripropone l'undici titolare compreso il suo bomber in crisi negli ultimi due mesi Ed Ingeco ha segnato un solo gol ma sarà anche stavolta lui a guidare l'attacco giallorosso con Patrick Schick Juventino mancato pronto a subentrare la Roma migliore è smaniosa di invertire il trend negativo delle ultime stagioni rilanciando così le sue ambizioni alla lotta a Scudetto non dico decisiva ma che è un valore veramente importante dal punto di vista anche psicologico e mentale con una squadra che deve andare a cercare a tutti i costi un risultato positivo in un campo sicuramente non facile tra le sfide pomeridiane la capolista Napoli in quel San Paolo dove ha raccolto solo un punto nelle ultime due gare cerca il successo contro la Sampdoria viatico ideale per proiettarsi verso il titolo di campione d'inverno sul campo del Sassuolo invece l'Inter dovrà reagire al primo passo falso commesso in casa peraltro contro l'Udinese con Luciano Spalletti quasi rassegnato a non poter contare sui rinforzi auspicati per il mercato di gennaio dopo il ritiro punitivo di questa settimana un Milan disperato si aggrappa alla sfida interna con l'Atalanta per ritrovare il morale e rendere meno traballante la panchina di Rino Gattuso la Lazio è tuttora in campo all'Olimpico contro il Crotone poi dopo i successi di ieri in trasferta del Bologna sul Chievo e della Fiorentina a Cagliari Genova Benevento Spaltorino e Udinese Verona completeranno questo penultimo turno del girone d'andata ricordando che nell'anticipo la Lazio sta vincendo 1-0 contro il Crotone con questo ci fermiamo ancora naturalmente TG Cronach e con Raffaella Di Rosa ricominciamo dalle buone notizie quelle che arrivano dal primo tentativo riuscito di realizzare un corridoio umanitario tra Libia e Italia tutti i dettagli tra poco noi se volete ci vediamo come sempre anche domani domenica a 13.30 telegiornale a 13.30 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 a 13.30